carissimi fratelli sorelle e anche voi cari amici e cari amiche con questo video messaggio desidero completare l'argomento riguardo la predestinazione e vorrei completare le riflessioni intorno alle due domande che ci siamo fatti la prima domanda è perché dio attira alcuni a cristo e altri invece non li attira e l'altra domanda era ma è proprio vero che il signore gesù è morto solo per alcuni in parte abbiamo già risposto alla prima domanda nella prima parte di questo studio dove abbiamo visto che il signore attira o non attira in base alla sua preconoscenza non vorrei ritornare sulle cose già dette nella prima parte chi fosse interessato ad avere un quadro chiaro dell'argomento che stiamo trattando è invitato ad ascoltare la prima parte di questo studio che potrà trovare sulla mia pagina sulla mia pagina o sul canale youtube quindi andiamo subito alla seconda parte di questo studio e leggiamo insieme nel libro degli atti capitolo 16 verso 14 un altro versetto che viene spesso tirato in ballo per dare valore alla dottrina della predestinazione leggiamo quindi atti 16 14 una donna della città di tiatiri commerciante di porpora di nome lidia che temeva dio stava ad ascoltare il signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da paolo come dicevo anche questo è tra i versetti che viene spesso tirato in ballo per dire che se non è dio ad aprire il cuore l'uomo non può credere e si conclude dicendo che solo coloro ai quali dio apre il cuore sono predestinati a salvezza mentre tutti gli altri ai quali non apre il cuore sono predestinati alla dannazione proviamo a rileggere attentamente questo versetto vi chiedo di porre tutta la vostra attenzione sulla vostra bibbia leggiamo una donna della città di tiatiri commerciante di porpora di nome lidia che temeva dio stava ad ascoltare il signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da paolo nella mia bibbia ho sottolineato tre frasi una donna che temeva dio il signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da paolo io ho sottolineato questa porzione di versetto desidero leggere insieme a voi anche la versione la versione di odati la nuova di odati vediamo come riporta questo versetto e una donna di nome lidia commerciante di porpora della città di tiatiri che adorava dio stava ad ascoltare e il signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da paolo anche in questo verso ho sottolineato la seguente frase che ho diviso in tre parti una donna che adorava dio il signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da paolo desidero leggere insieme a voi anche la versione cei di questo versetto vediamo come lo riporta c'era ad ascoltare anche una donna di nome lidia commerciante di porpora della città di tiatira una credente in dio il signore le aprì il cuore per aderire alle cose dette da paolo anche in questo caso sottolineato la seguente frase divisa in tre parti una donna credente in dio il signore aprì il suo cuore per aderire alle parole di paolo vi invito a leggere anche la versione della vecchia di odati che a mio avviso è la versione più fedele e dice questo ad una certa donna chiamata lidia mercatante di porpora della città di tiatiri la quale serviva dio stava ad ascoltare e il signore aperse il suo cuore per attendere alle cose dette da paolo anche in questo caso ho voluto sottolineare la seguente frase la seguente porzione di versetto una donna che serviva dio il signore aperse il suo cuore per attendere alle cose dette da paolo da queste quattro letture che non sono in contraddizione tra di loro noi comprendiamo che qui abbiamo una donna che punto numero uno temeva dio adorava dio credeva in dio e serviva dio personalmente credo che tutte e quattro queste traduzioni queste versioni siano corrette perché vedete il timore di dio e l'adorazione sono tutt'uno quando adoriamo esprimiamo timore rispetto reverenziale quando abbiamo timore anche il timore una forma di adorazione il timore l'adorazione la fede e il servizio sono caratteristiche di un credente di un figlio di dio di una persona che crede in dio e qui abbiamo quattro versioni che ci dicono una dice che temeva dio l'altra dice che adorava dio l'altra dice che credeva in dio e l'altra dice che serviva dio tutte e quattro queste versioni ci stanno parlando di una donna credente di una donna che credeva in dio perché come abbiamo detto il timore è una forma di adorazione e l'adorazione è espressione di timore il servizio inoltre del quale parla qui la vecchia di odati è una manifestazione della fede quando serviamo dio stiamo manifestando la nostra fede quindi queste quattro versioni sono perfettamente in armonia tra di loro e che cosa ci stanno dicendo queste quattro versioni ci stanno dicendo che lidia era una credente e questo è importante sottolinearlo e adesso vi spiego perché perché molti dicono se dio non apre il cuore l'uomo non può credere dicono sempre questo i fratelli che insegnano la predestinazione ma attenzione qui la lettura non dice che dio aprì il suo cuore perché credesse non abbiamo letto da nessuna parte che dio aprì il suo cuore perché ponesse la sua fede in dio ma abbiamo letto che dio aprì il suo cuore perché stesse attenta alle parole dette da paolo quindi dio non aprì il cuore di lidia perché questa credesse ma aprì il cuore di lidia per renderla attenta alle cose che paolo stava dicendo quindi cita citare lidia per dire che se dio non apre il cuore l'uomo non può credere è sbagliato perché nel caso di lidia come abbiamo visto dio aprì il suo cuore perché stesse attenta all'insegnamento che paolo stava dicendo facendo portando alla predicazione che paolo stava portando quindi dio aprì il cuore di questa donna per renderla attenta come fa anche con noi quando ascoltiamo una predicazione quindi dio qui aprì il cuore di lidia per renderla attenta non per portarla alla fede quindi ripeto citare lidia per dire se dio non apre il cuore non puoi credere e si cita lidia è sbagliato perché dio aprì il cuore di lidia non per portarla alla fede perché questa donna credeva già era timorata di dio adorava dio serviva a dio quindi era una credente il dio gli apre il cuore semplicemente perché questa stesse attenta alla predicazione di paolo è chiarissima la scrittura quindi citare di citare lidia è completamente sbagliato per dare valore alla dottrina della predestinazione nel caso del faraone si adempì la scrittura che dice dio resiste ai superbi nel caso di lidia si adempì la scrittura che dice dio fa grazie agli umili e la grazia che dio fece a lidia era quella di poter stare attenta alle parole che paolo stava dicendo quindi fratelli citare il faraone e lidia per dare valore alla dottrina della predestinazione c'è qualcosa che non funziona perché nel caso del faraone abbiamo già visto che fu il faraone a ribellarsi a dio per primo e poi dio indurì il suo cuore ancora di più nel caso di lidia dio non aprì il cuore di lidia per portarla alla fede ma per renderla attenta perché questa donna era già credente la preconoscenza di dio inoltre ci fa comprendere anche il perché della profezia di isaia tante volte viene citata la profezia di isaia che dice udrete sì ma non comprenderete guarderete sì ma non vedrete perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile sono diventati duri di orecci e hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi e non ascoltano con gli orecci e poi dice non comprendano con il cuore e non si convertino convertano e io li guarisca anche questo versetto viene citato spesso per dire vedi dio chiude gli occhi chiude le orecce perché vuole che quella gente lì non si salvi ma attenzione anche questo versetto deve essere esaminato alla luce della preconoscenza di dio e alla luce del contesto in cui inserito il signore gesù questo versetto qui lo leggiamo nel capitolo 13 di matteo il signore gesù cominciò a parlare in parabole anche le parabole vengono spesso citate tirate in ballo per dire dio parlava in parabolo perché non voleva che quelle lì si arrivasse dalla salvezza quindi ecco solo i predestinati potevano capire le parabole ma bisogna fare una riflessione su questo capitolo sapete perché perché il signore gesù cominciò a parlare in parabole solo dal capitolo 13 di matteo fino al capitolo 13 fino al capitolo 12 egli annunciò il vangelo apertamente a tutti dal capitolo 13 in poi cominciò a parlare in parabole era successo qualcosa che cosa era successo se voi andate a leggere nel capitolo 12 al versetto 24 sta scritto ma i farisei udendo ciò dissero costui non scaccia i demoni se non con l'aiuto di belzebù principe dei demoni nella prima parte del versetto 25 sta scritto gesù conoscendo i loro pensieri e poi conclude un discorso che si completa con la denuncia della bestemmia contro lo spirito santo avete notato qui nella prima parte del versetto 25 di matteo 12 dice gesù conoscendo i loro pensieri anche qua vediamo la preconoscenza del signore gesù anche in questo caso quindi il signore conosceva i loro pensieri e attenzione se voi andate a leggere il capitolo 12 di matteo voi vedete che solamente dopo che questi rifiutarono il messaggio dopo che questi dissero che il signore gesù aveva un demone dopo che bestemmiarono contro lo spirito santo il signore iniziò a parlare in parabole avevano disprezzato la parola di dio l'avevano disprezzato in modo così grave che in quel caso lì si adempì la scrittura la profezia di isaia si adempì quello che dicevamo prima cioè che quando si rigetta la parola di dio ripetutamente come abbiamo detto nella prima parte dio porta un indurimento di cuore coloro che disprezzano la sua parola e nel capitolo 13 di matteo si adempì questo avevano disprezzato la parola di dio avevano detto che aveva un demone e il signore che cosa fa parla un linguaggio a loro sconosciuto in parabole per non portarli più alla salvezza ma perché avevano bestemmiato contro lo spirito santo il peccato imperdonabile quando si commette il peccato imperdonabile non c'è più speranza di salvezza è imperdonabile ed ecco che gesù parla in parabole ed ecco che dio indurisce i cuori di coloro che bestemmiano contro lo spirito santo e il peccato contro la bestemmia contro lo spirito santo il peccato di incredulità ha un altro significato che esamineremo un'altra volta comunque il peccato dell'incredulità è un peccato imperdonabile perché perché se non credi non puoi essere salvato e allora ecco che il signore dopo indurisce il loro cuore e si adempia la profezia di isaia quindi quando citate la profezia di isaia per dare valore alla dottrina della predestinazione dovete ricordarvi che prima il signore parlò in modo chiaro a tutti dopo cominciò a parlare in parabole dopo che disprezzarono il suo messaggio un altro versetto che viene citato un altro caso della scrittura che viene citato per dare valore alla dottrina della predestinazione riguarda giacobbe ed esaù e si dice prima che i gemelli fossero nati e avessero fatti del bene del male dio amò l'uno e odiò l'altro e sulla base di questa lettura si conclude dicendo vedi dio amò uno e odiò l'altro perché voleva uno che uno si salvasse l'altro no ma anche questo deve essere esaminato alla luce della preconoscenza di dio dell'onniscienza di dio il signore sapeva già quali sarebbero state le loro scelte anche se dovevano ancora nascere anche se dovevano fare ancora del bene o del male dio conosceva già le loro scelte future e sulla base di questa conoscenza sulla base di questa onniscienza amò l'uno e odiò l'altro ma poi c'è un'altra cosa importante da dire che non tutti tengono presente e che quando si parla di giacobbe ed esaù si parla anche di due nazioni perché come sappiamo giacobbe e anche israele ed esaù e anche edom quindi quando il signore dice che amò giacobbe e odiò esaù sta dicendo che amò israele e odiò edom genesi capitolo 36 versetto 8 sta scritto così esaù abitò sulla montagna di seir esaù e edom e poi notate che cosa dice nel libro del profeta malachia capitolo 1 verso 4 se edom dice noi siamo stati annientati ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine così parla il signore degli eserciti essi costruiranno ma io distruggerò saranno chiamati territorio delle impietà popolo contro il quale il signore è sdegnato per sempre se esaminiamo l'amore per giacobbe e l'odio di esaù alla luce sotto la lente dell'oniscenza di dio e anche sotto la lente di queste ultime considerazioni cioè che esaù e edom e giacobbe israele allora comprendiamo meglio anche il significato delle parole che dicono prima che i gemelli fossero nati avessero fatto del bene e del male dio amò l'uno e odiò l'altro dio amò israele e odiò edom e dice che egli sarà sdegnato per sempre contro edom quindi anche quando citate giacobbe ed esaù dovete tenere presente dell'oniscenza di dio e dovete tenere presente di questo particolare che giacobbe e israele esaù e edom ma questo lo studieremo se dio vuole in un'altra in un altro momento mi avvio alla conclusione non vorrei dilungarmi troppo vi invito a leggere con me nella prima lettera di giovanni capitolo 2 versetto 2 leggiamo insieme egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo qui rispondiamo alla seconda domanda ma è proprio vero che il signore gesù è morto solo per alcuni questo versetto ci dà già la risposta rileggiamolo egli egli il signore gesù è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non solo per i nostri peccati ma anche per quelli di tutto il mondo qui giovanni sta scrivendo a dei credenti e sta dicendo chiaramente che il signore gesù non era morto solo per loro ma era morto anche per i peccati di tutto il resto del mondo e quando si parla di mondo qui si parla di umanità quello che sto dicendo trova conferma nella scrittura certo che sì vi invito a leggere nella lettera ai romani capitolo 3 versetto 23 notate che cosa dice perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di dio segnate nella vostra bibbia tutti hanno peccato che cosa significa tutti hanno peccato che tutti gli uomini sono peccatori siamo d'accordo bene andiamo adesso in prima timotio capitolo 1 versetto 15 certa e questa affermazione è degna di essere pienamente accettata che cristo gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo riflettiamo insieme fratelle e sorelle i romani 3 23 abbiamo letto che tutti gli uomini sono peccatori in prima timotio 1 15 abbiamo letto che il signore gesù è venuto per salvare i peccatori quindi se tutti gli uomini sono peccatori e se il signore gesù è venuto per salvare i peccatori il risultato qual è che egli è morto per tutti e qui troviamo conferma alle parole che scrisse giovanni nella sua prima lettera capitolo 2 verso 2 egli non è stato solo il sacrificio propiziatorio per noi credenti per noi che crediamo già ma anche per i peccati di tutto il mondo e qui troviamo la conferma in romani 3 23 e prima timotio 1 15 troviamo la conferma il signore gesù è morto per tutti gli uomini la scrittura dice di sì dice che egli è morto per salvare i peccatori e poi la stessa scrittura ci dice che tutti gli uomini sono peccatori quindi è morto per tutti gli uomini concludiamo questo studio fratelli e sorelle vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e completiamolo con la lettura di giovanni capitolo 3 versetti 16 e 36 sono due versetti meravigliosi li voglio leggere insieme a mio avviso questi due versetti sintetizzano in modo chiaro tutto il messaggio del vangelo leggiamo quindi in giovanni capitolo capitolo 3 versetto 16 e versetto 36 sta scritto perché dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna chi crede nel figlio alla vita eterna chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma l'ira di dio rimane su di lui cosa ci dicono questi due versetti cosa ci dice il versetto 16 ci dice che chiunque può credere in gesù cosa ci dice il versetto 36 ci dice che chiunque può rifiutare di credere in gesù il versetto 16 e il versetto 36 di giovanni 3 ci parlano in modo chiaro della libertà che l'uomo ha di credere o di rifiutare di credere quando in nel versetto 36 di leggiamo che chi rifiuta di credere ecco la parola rifiuto cosa vi fa ricordare cos'è il rifiuto il rifiuto è un'espressione di libertà in altre parole quando rifiuto qualcosa io sto esercitando una libertà e questi due versetti rispondono alla nostra domanda gesù è morto per tutti gli uomini è morto per chiunque chiunque crede viene salvato chiunque rifiute rifiuta rimane sotto la sua condanna sotto l'ira di dio quindi questi due versetti ci dicono in modo chiaro che chiunque può credere nel signore gesù e chiunque può rifiutare di credere nel signore gesù chiarissima la scrittura rifiutare inoltre significa appunto non voler accettare e non voler ricevere ed è sulla base di questa scelta che l'uomo fa che poi decide dove passare l'eternità desidero salutarvi facendovi una domanda e la domanda è questa se dio avesse programmato una parte dell'umanità a credere in lui e ad amarlo sarebbe questa vera fede sarebbe questo vero amore io credo proprio di no la vera fede e il vero amore sono quelli che nascono da un cuore libero da un cuore che sceglie di credere e sceglie di amare questa è la vera fede questo è il vero amore e riguardo a coloro che dicono ma se gesù è morto per tutti allora quelli che non crederanno in lui rappresenteranno il fallimento della croce perché molti dicono anche questo dicono ah non è possibile che gesù è morto per tutti perché ciò significherebbe che tutti quelli che rifiutano il suo sacrificio ecco rappresentano un fallimento per la croce questa è un'altra affermazione che si fa spesso ebbene io dico di no la croce è infallibile cari fratelli e care sorelle per coloro che credono la croce è salvezza per coloro che rifiutano di credere quella croce confermerà la loro condanna eterna la croce è l'unica via della salvezza nel momento in cui l'uomo rifiuta l'opera della croce non fa altro che rimanere sotto l'ira di Dio quindi quella croce stessa condannerà l'uomo nell'ultimo giorno in un modo definitivo per questo motivo l'opera che ha compiuto il nostro Signore sulla croce è un'opera infallibile essa rappresenta salvezza per chi crede e giudizio e condanna per chi non crede quindi anche questa affermazione che spesso viene tirata in ballo come dicevamo prima ma allora se Gesù è morto per tutti quelli che lo rifiuteranno per quelli che rifiuteranno è morto inutilmente? no, non è morto inutilmente la sua morte è salvezza per alcuni ed è giudizio e condanna per altri quindi la sua morte non è stata inutile in nessun caso e questo ci certifica ancora una volta che l'opera della croce è un'opera infallibile concludo questo mio studio spero di avervi esposto i pensieri che il Signore ha posto sul mio cuore in modo chiaro e comprensibile ho cercato di commentare in modo più sintetico possibile i versetti che abbiamo esaminato ci sarebbe tanto da dire ancora ma spero di averli esposti in modo chiaro e ringraziamo il Signore e voglio completare questo mio studio facendo un invito a tutti coloro che ancora non conoscono il Signore Gesù andate a Cristo andate a Cristo Egli è morto anche per voi Egli è morto per tutti chiunque crede ha vita eterna chiunque rifiuta di credere rimane sotto l'ira di Dio quindi quella croce certificherà e confermerà la condanna eterna che il Signore ci benedica che questo messaggio possa essere condiviso se lo desiderate in modo da annunciare il Vangelo a tutte le genti così come il Signore ci ha comandato nella Sua parola questo è un messaggio anche di evangelizzazione quindi se lo desiderate condividetelo affinché la parola di Dio possa giungere più cuori possibile ringraziamo il Signore per la Sua parola Ame 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 Ame